Grazie a tutti. La frutta non c'è con la tua vitamina e la playpen. Premi la X, ma sta tanto che c'è con lo X. Con i suoi amici corsa, il terrore di mai. Ma con un po' di verdura vedrai che paura di fai. E intanto come sempre, i grandi non si accorgono di niente.